Abbiamo sicuramente da alcuni giorni la possibilità di trattamento per via orale con una compressa che viene somministrata due volte al giorno per cinque giorni, quattro compresse due volte al giorno per cinque giorni e che però è indicata solo a pazienti che hanno dei fattori di rischio per un Covid severo. Questo è molto importante ricordarlo, è lo stesso gruppo di pazienti che aveva diritto alla terapia con gli anticorpi monoclonari. È l'ultima frontiera nel trattamento del Covid, una compressa arrivata ieri nelle farmacie degli ospedali veneti e oggi a disposizione dei medici. Rispetto solo a pochi mesi fa, sono ora cinque le diverse terapie utilizzate nel trattamento della malattia, tre anticorpi monoclonali, un farmaco endovenoso e la pillola. In arrivo anche un nuovo anticorpo monoclonale a durata prolungata. Invece di una durata nel sangue di circa tre mesi ha una durata di un anno. Questo anticorpo potrebbe essere essenziale per i soggetti che non rispondono al vaccino o per quelli che non si sono potuti o non si sono voluti vaccinare. E a proposito di terapie, il membro del CTS regionale interviene sulla discussione intorno all'Ivermectina, farmaco che spesso i pazienti Covid e Novax utilizzano per curarsi a casa. Ci sono alcune terapie come l'Ivermectina, la Zitromicina, l'Idrossiclorochina, che studi hanno dimostrato che sono inutili se non addirittura dannosi. Io non posso rispondere a un mio paziente che non in questo modo e credo che il paziente debba pretendere dal proprio medico una spiegazione scientifica di ogni consiglio che gli venga dato. Importanti le indicazioni che la professoressa Tacconelli dà per il trattamento dei pazienti. Se si hanno dei fattori di rischio per una malattia grave e non si è vaccinati, è davvero essenziale che si esegua un tampone il più rapidamente possibile e sicuramente entro cinque giorni. In questo caso c'è la possibilità di trattare la malattia precocemente e ridurre il rischio di ospedalizzazione. La persona che non ha fattori di rischio ed è vaccinata può serenamente rimanere al proprio domicilio e trattare i sintomi come una normalissima sindrome influenzale con l'unica accortezza, se possibile, di avere un saturimetro a disposizione. Per la direttrice delle malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Verona è essenziale calibrare le decisioni sul nuovo profilo epidemiologico della malattia. Non è pensabile che la definizione di caso rimanga la stessa. Se io continuo a considerare importante il numero di positivi sui tamponi effettuati, in questo numero di positivi è un numero enorme di asintomatici vaccinati che in realtà non hanno nessun impatto sulla sanità pubblica. Tutto questo in uno scenario epidemiologico completamente cambiato. Io vedo una malattia nettamente diversa. Omicron ha una forma nel vaccinato fondamentalmente simile influenzale. Vedo una malattia Covid nel vaccinato che è completamente diversa da quella che vedevo otto mesi fa. Continuo però a vedere pazienti non vaccinati che acquisiscono la variante Delta e vedo lo stesso identico quadro che vedevo nove mesi fa.